ok scusate ripartiamo da qua non so cosa è successo ma ripartiamo da qua quando è chiusa sta cadendo la colonna ok si continua, scusate cosa è successo? dove correre per i piedi fino a qua, scusate la colonna ok e anche per il cazzo, va bene, è finita ok, dentro il vaccino ha funzionato ottimo bene ehi, ma dove vai? non è finita che persi di fare, la città verrà polverizzata avanti ti, chiama il governo di loro che abbiamo una cura guadagna più grosse filmato ecco, è come l'inizio del gioco grazie a Dio, stai bene? si ottimi notizie è tutto finito? la città è salva? si oh, e vomita che cazzo ha? ma poi è un tentacolo che no, 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 no giù a pistola no, giù a pistola schifo schifo si, ma l'ha infettato il Nemesis cazzo filmato e adesso controllo Jill dove sono? eh cos'è successo? sei all'ospedale e il Nemesis sta infettato oh vedi? no ah, vedi? la data della distruzione di Uncon City primo ottobre allora pistola pistola di so modello raffica quello che c'è la calus ma questa è a raffica tre tre colpi buono allora posiamo quelli che ho preso durante lo scontro con Nemesis però via questa pistola non serve un cazzo via questo tutto si, si, si tutto tutto vediamo un po' cosa è lo scontro lancia i granati mi conviene o il fucile no, prima lo prendiamo lancia i granati mi serve dai lancia i granati non sono esclusivi dai poi andiamo fuori ecco buongiorno mi hai salvato la vita proprio per niente no mi hai fatto tutto per cosa quel pazzo figlio di cotidana ti ha portato qui e ti ha rubato dov'è adesso in sotterraneo guardate ne va niente città può essere eh crede di farcene da sola devo raggiungere ma non hai sentito l'annuncio la città sta per essere spazzata sto provando a contattare qualcuno abbastanza in alto per fermare eh lascia fare altro ne ho professionista lo sono anche ottimo ok non credo che ti farò cambiare la struttura si trova proprio sotto questo ospedale ho perso i contatti con Carlos e però ti appeggio foglietti e poi ti appeggio ma io sono pronto erba rossa buono qua usiamo il primaldello semmeno sappiamo che deve andare di qua ma qua c'è il documento che non ho guardato ok sì ma sembra un condominio che cosa non è un ospedale cioè due piani sembra un palazzo o una villa ma la villa no allora pienta rossa un altro ok allora qua il primaldello vedi vediamo cosa contiene proiettili mag questa è la magnum eh forse per cercare in giro non lo sa con la valigetta non lo sa con la valigetta ok allora ma va esplosivo B ok non c'è niente vediamo erba verde lo combiniamo ok occhio eccolo un'ante di merda toh i piccioli degli ERC oh un esplosivo lo distrugge lo ammazza ok un primaldello esplosivo buono ok andiamo andiamo di sopra e vedi andiamo a vedere tutto vedi di là e poi andiamo là giù vedi che non sono finita guarda che non fai finita coglione beccati questo guarda 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 questa guarda di questo niente niente abbiamo qua cattucce il bandello è ah l'altra stanza lì non c'è qui durante si inventano non per i coglioni allora aspetta un attimo ne ho posato la roba allora pianta allora via queste esclusivo miscela miscela minuzioni ecco l'erba via e queste andiamo allora andiamo qua ci fa sii povera sparo qualità alta buono allora ok andiamo di qua l'ho fatto giro lungo cazzo allora la pianta l'aveva lasciata ok l'ultimo rimaldello mi sembra ok si è l'ultimo rimaldello ok allora qua esplosivo a rimane quel cortiletto poi andiamo qua ho aperto il rimaldello prima di salire qua sopra fa spazio non posso usare la roba allora un altro rimaldello via esplosivo proiettini magnum polo da sparo eccola combina mettiamola via e andiamo qua dove va andare posso passare di qui si ok scendiamo ecco il soldato molto ecco la valigetta andiamo la magnum la desert eagle vai prendiamola questa farà dei bei buchi finché si fa dei bei buchi c'è che poi mi la sto per farlo eh ma noi facciamo adesso adesso più avanti è giusto andiamo ok tutto fatto adesso andiamo qua dove c'è l'accettazione qua questa stanza qua so che cazzo eh ma andiamo oh c'è un hunter beccati questo oh di ciò arrivederci ma mai mi sono accorto andiamo qua andiamo qua andiamo qua andiamo qua andiamo qua andiamo qua questa cassa qua andiamo 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 qua e abbiamo qua andiamo qua e abbiamo qua e abbiamo qua andiamo qua andiamo qua e abbiamo 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 qua e hai capito struttura sotterranea hai capito possibile che nessuno all'ospedale se ne sia mai d'accordo e no erba verde andiamo qua dentro l'ultimo borsello molto bene adesso siamo a completo 20 slot che il documento vediamo il fusibile lanciaganate i proiettili la maglia mettiamola via funzioni esplosivo e l'erba verde prendiamo il fucile eccolo colpi ecco nicolai l'infame di merda l'esplosivo a andiamo a metterlo via musica save room mettiamola via ok andiamo avanti avanti così quel cadavere lo butto giù che cazzo di zombie è questo erano zombie che schifo poi sono già morti attenzione andiamo è stata la corrente no trovo i fusibili sono tre ok andiamo su proiettili e cartucce buono ultimo fusibile numero tre ok ok andiamo qua c'è altri proiettili prendiamoli la pistola andiamo di la bastardo ui che cazzo di merda ui due no e uno no che cazzo di merda no e di ciò vai a vederci ma l'attenzione mi ha messo sto bastardo di qua eh vaffanculo toh no di qua di qua di qua mi chiamo un mosso non avesse attenzione quel cane di merda assurdo erba vera erba rossa scusate giusta aperta forma c'è qualcosa lì eh vai apriamo qua cos'è porta cartucce fucile a pompa un'altra modifica ricarica rapidamente la mettiamo ah è un bel fucilozzo diventato oh piattaforma il primo morso di gill eh la un kai non la un zombie eh il kallos è già il primo morso un po' con gli ettili prendiamo qualche caffoma lì poi togliamo indietro vada qua povera scala qualità alta ok ma qua non c'è no ha perso i proietti i proietti andiamo di qua oh zombie di merda oh sta rigenerando sto coglione ok ok qua altre cartucce sblocchiamo la porta allora prendiamo allora via questo questo prendiamo l'elba verde combina combina ok usiamola ecco il cane di merda ha proprio ridotto un'amore torniamo laggiù e poi proprio di Nicolai sticosi che ha fatto cadere andiamo di qua ok ok andiamo di qua uh porca miseria si apre qua il container oh i zombie uno quanti sono quanti sono sono e non è che c'è c'è un fucile sparo prendiamola prendiamola è questo che è uscito sto anche il gamma muori e non male ah si è perso il container quando capito come fusibile eccolo qua è il numero uno eccolo qua qua c'è l'erba verde prendiamola ok ok porca puta ecco si è aperto un container e poi ho fatto si è aperto il secondo ecco l'erba verde e l'erba verde si è usato il lanciarsi ma ero già morto andiamo di qua ecco ok porve la sparo prendiamola un hunter attenzione godo figlio di puttana e diciamo rivederci eh due colpi è buono eh terzo fusibile eccolo qua ok ci sono tutti ok e poi il fucine che non serve il club adesso via poi mi la sparo andiamo così ok oh si sveglia nel zombie ho quella schifezza in testa e l'ho beccato di questo fatti fuori allora così 3 2 e 1 ok è attirata la corrente boh saliamo non lo so qua c'è una valleggetta cos'è canna lunga da magnum buono ok vediamo la magnum eccola qua danno infitto è molto potente eccola qua uno slot non due buono mettiamola via ok ok leggiamo qui giro giro dai 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 Grazie a tutti. Ok, chi l'ha scritto? L'ha scritto di qua è un coglione. Vai, ho firmato. Oh, Tarello. Dai, dai. Ce l'ho fatta. Voglio una negozia. Eh. L'annuneranno l'attacco se... Eh, questa non ti piacerà. Eh, se gli consiglieremo il vaccino, prima del lancio. Quanto tempo abbiamo? A che ora? Forse. Eh. Allora, vediamo il vaccino. E qua? Sì. Ottieni il vaccino. Vai con te, Ren. Ah. Ci ha... Forse il vaccino è più avanti. Sì. Almeno ha negoziato. Allora, bisogna trovare il vaccino. Hai bisogno di fermarti. Fermarti? Eh. Vai, ti copro. Molto bene. Chiudiamo la questione. Andiamo. Qua dentro. Filmato. Non c'è nessuno. Chi è questo rumore? No, il Nemesis! Bastardo! Ho potuto tenere. Non cazzo. Non c'è nessuno. Eh. Coraggio! Dai, manca poco! Dai! No! 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 L'ho ucciso! Sto coglione! Merda! Ma come ha fatto ad entrare? Nonostante la dimensione gigantesca. Boom! Boom! Ma G, come faccia a sapere il pulsante lì? Ma ha chiuso la sala cinesca per un po' ad entrare? Ma neanche con la cosa riesce a sfondare. Non muori. Ottieni il vaccino. Doccia. Bolo talco. E guarda dove siamo. Siamo al Nest 2 di Resident Evil 3 Remake. Facciamo qualcosa. Dicevano, questo è il Nest 2 di Resident Evil 3 Remake. Nel 2 remake del Nest 1. Come la spalo. Erba verde. Documento. Ok. D'avatto. Eccola lì. Questa è la macchina. Questo è il cazzo arco. Il 2. Non lo so. Secondo piano. Cazzo operai. Vedi. Quattro. Mi sega. Allora, via polvere a sparo e l'erba. Andiamo avanti così nel laboratorio Nest 2. Di Resident Evil 3 Remake. 3 remake, sì. Il 2 remake è il Nest 1. electric 그러니까. Il 3 of the Sans 2. Non lo so. Eh, guarda questo co***o. Quindi... documento. ... ... ... è un bel è un hunter come la sparo beh è diverso dal 2 remake il nest 2 qua vediamo qua come la sparo proiettili ma quanta roba che ho trovato davanti al gioco per sintetizzare il vaccino inserire il siero nell'associamento sintetizzare devo fommelo io ok vediamo di più base per il vaccino base per il vaccino ok ok cos'è oh cos'è non lo so oh chiavetta di sb eccola hai capito vabbè che ho avuto usb non c'è un cazzo guarda lì guarda lì guarda lì lavoratori guarda lì guarda lì Qua lo metto la chiavetta, vediamo, sì, c'è la fessura, ok, lo zombie, stop, no, che è quello lì, un po' che si rigenera, sto bastardo, guarda, guarda. Mi ho ammazzato qua, eh, eh, non mi fido, vedi, vedi, qua, foglietti, ok, polvere da sparo, documento. Pale, egg. Ascio, quelli armi pesanti che fanno fuori, ecco che sono i paleri, quello zombie che ho fatto fuori prima, lì, fuori, quelli che sono nudi. Hai capito, cos'è questo? Segui il campione lì? Che cos'è? Campione di cultura. Ah, è un campione di antigene, avrò bisogno per chi ha il bacino. Ma come fa a saperlo? Va a vedere. Campione di antigene. Ah, l'antigene, hai capito, ho capito oggi che cos'è, eh. Ecco il palene, quello qua. Ma è nudo, che schifo. Percati, questo! E di ciao e di vederci. Allora, qua ce ne... Aspetta, erba verde, prendiamola. Prendiamo. Cartucce. Esplosivo A. Andiamo un attimo qua. C'è un'altra roba, la prendiamo. Un documento, vediamo. Allora. Ciao. Ehi. Allora. Allora. ok la c'è una ricetta apriamola cos'è munizioni acide lancia ganate prendiamole non ne avevo fatte ancora ah ci vuoi due esplosibili la pianta rossa è buono qua una bella sparo e un cadavere ok torniamo indietro a cosa la roba guarda ne ho domina eh sono il nest 2 vuol dire che c'è un'altra zona che non ho fatto il trattore orologio il parco come mai? vogliamo avere munizioni acide polo di asparo cartucce esplosivo A scena prendiamo lancia granate eccolo qua allora esplosivi c'è di O vediamo che ce li ho porca puttana dove cazzo sono? eccole qua ma io voglio farle vaffanculo allora prendiamo due A eccolo qua le prese per ricarica dove cazzo siete no 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 ma quanta roba che c'ho eccole qua ma quanta roba che c'ho minchia ok ok le prese esplosive eh con due B faccio le acide diciamo le esplosive va no io fai le acide mettile via dove erano due B di servono ok eccola eccola qua non è più esclusibile ecco viene un'altra si si facciamo le acide voglio vederle come funziona facciamo anche due esplosive vaffanculo va eccole qua boh mettiamole via prima ottima io avete le acide come sono spiaggei? non li faccio così snotto trovate oggetti vediamo usiamo l'esplosire che c'è si poteva guarda qua lo zombie di me la top e di ciò e vederci allora qua spray medico buonissimo ok spingiamo ok 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 esplosire qua ok apriamo ecco le le capsule le capsule di Tyrant che schifo qua esplosivo B buono gli hunter che è all'ospedale quanti altri ma questi Tyrant mamma che schifo guarda come sono orribili orribili siamo all'altra parte dove doveva arrivare lavoratori incubatrici è quello andare a quattro con i cubatrici occhio occhio vada lì eh sì fuori ai piedi fuori ai coglioni dite fanculo dite ciò e vederci qua esplosivo B buono qua esplosivo A buono povera sparo ok c'è uno slot c'è un documento vediamo il documento del nemesis che lei lo sa ma il documento non ma già io ho sbagliato ci vedo, provetta con il siero, come fa a saperlo? Campione di adiuvante, eccolo qua, combiniamolo con base per il bacino, no, l'antigene, base per il bacino, si, base per il bacino, la macchina è adatto, ok, scusate, potrò una cosa, ok, niente, arrivo, eccomi, boom, ok, ok, prendiamola giù, fa freddo, eh sì, fa freddo, oh, cazzo, durante sono usciti fuori, peccato di questo, dite se, oh sì, diteci a rivederci, porca puttana, mica se l'acido fa male, no, bastardo, bastardo, no, stronzo, aiutano, fa male, oh sì, diteci a rivederci, coglione, cambio munizione, ok, l'acido fa male, mamma mia, mamma mia che ho create, posso creare ancora, con i due B, poi andiamo a posare tutto, grande quei campioni lì, no, non salvataggio, andiamo dopo, allora, lancia ganate, emissioni, le acide, eccole lì, ok, ok, questa mettiamo qua, spray medico, esplosivi, con bella sparo, e andiamo, boh, andiamo, da sopra, qua, ho preso anche letto USB, ecco qua, ecco lì, boh, vai, e sintetizzarlo, dobbiamo sintetizzarlo, a 50 e 50, 50.0, tutte e tre, allora, no, quasi, 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 fatto, mid, high, low, così, ma ci ho messo poco, si, ci mettevo di più, blu e azzurro, oh, che bel campione, prendiamolo, vaccino, che preso, bel fucsia, bellissimo, bel colore, oh, il tentacolo di Nemesis, Nemesis, no, aia, eh, a costero, boom, 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 che botta, bel cappozze, bel culo, ok, scendiamo, qua, qualcun d'olto, per forza, boom, 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 via, eh, di nuovo, affanculo, niente, esplosivo, si, al gas, oh, brucia, bastardo, coglione, cazzo, ma preso, con la gamba, e devo, spingere, andare su quella piattaforma, nemmeno che ti fascina con sé, però è un casino, vai, fatto, esplode l'altro, e brucia, coglione, attiva la piattaforma, boom, boom, va a fuoco tutto lì, spray medico, polvera, sparo, qualità alta, e polvera, sparo, qualità alta, ok, le azioni segnali esclusivi, ok, lì c'è il documento che è, oh, ho capito dove siamo, allora, usiamo tutto, ok, queste, ok, monete di pesa che è la prossima parte, davvero dura, ok, il documento lo, guardiamo la prossima parte, quindi, saliamo, qua, quinta parte, quinta parte è questa, sì, ok, e la quinta parte finisce qui, terminiamola qua, la prossima parte potrebbe essere l'ultima parte, sarebbe quella definitiva per finire il gioco, boh, mi avvicino verso la fine di Resident Evil 3 Remake, ok, quindi la prossima parte andiamo lì, prima guardiamo il documento lì appeso, poi andiamo la vasca, io capito dove sono, proviamo che succede, il Nemesis è sotto lì, eh, attenzione, ma vediamo, ma la cosa c'è, la prossima parte potrebbe essere l'ultima parte di Resident Evil 3 Remake, ormai, sono quasi alla fine del gioco, quindi, mi avvicino verso la fine del gioco, verso la fine di Resident Evil 3 Remake, e poi vediamo che succede, ok, quindi la prossima parte potrebbe essere l'ultima parte del gioco, conoscendo bene, sono quasi alla fine, ok, boh, mi fermo qui, e quindi vi dico che finisce qui il gameplay di Resident Evil 3 Remake, quindi un ciao da Alessio19870, 870, si, al prossimo gameplay!